Bentorn... Bentornati qui su Jolly Brother. Questa gioco è un'avventura grafica. No, decisamente non è la locanda. Allora, barile. Guardiamo... Un po' di più, un po' di più. Un po' di più! Oh... Oh no... Hai... anche la scuola... In realtà non è la scuola... ok ma che è successo? è successo un cazzo ehm è matto tazzo è ovunque non necessariamo non necessariamo non necessariamo vittima oh questo sarebbe un grande ho 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 non necessariamo non necessariamo non necessariamo non necessariamo qui non necessariamo non necessariamo non necessariamo qui non necessariamo 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 for a bit of exploring and recreational digging please be accepting this token as a sign of good faith kind regards Captain Howell what are you? there's something written on the other side ahoy there jolly if ye be reading this ye ain't dead arrr good for ye he really wrote arrr kindly be asking the natives if they be minding us coming ashore for a few days to be searching for the unusual treasure this island be offering Captain Howell P.S. here be some of them crackers ye like sure Howell I'll help you when pigs fly well I'm here now if this island does have a treasure I could find it and keep it for myself assuming I could get off here somehow no more rum for me basta rum sono d'accordo d'accordo basta rum eh berzo da giunga you filthy pirate you little boy 強 ok i think i see Daivi waving Ma che bello. Il principale flore di questo design è che i pirati non possono leggere. Questi bambini sono più flexibili di cui ho gli credito. Questi peccati non semblano troppo male. Questa barra è mantenendo il mango dal giro. sono ancora disposte a non aiutar torniamo indietro e guardiamo se trovo qualcosa da non posso usare la città ah oh Oh... oh... eee There's that... The tingling This is just... Oh, wait, perché ch'è qua? Fora dom, come dobbiamo fare vedere. Ok... 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 Karta, ok... Ah... oh... eee C'è quel sentimento di tingli. Hmm, sarebbe più utile se fosse l'effetto opposito. Il sentimento è morto. Non voglio... Sì, però... Io pensavo che si spaventasse, ma non venisse quello di qua. Di là. Venisse da me. Ma quindi il mango... Cosa? Grazie del suggerimento. Allora... Facciamo vedere... Mmm... Spaventa, va bene. L'ho scritto l'altra volta. Ok, allora... Romo, tollo il suo terzo... Quanto è questo? LOL! Sembra lolla. Contrari. Se è onda. E' un triangolo con un rettangolo primo. Ok. 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 Oh no. Torna indietro, che mi sa... qualcosa. bene tu non chiede me e io non chiede te I'm sure these crap That's a fu- I can't reach it from I can't use That's a fu- I can't reach it The pig is happily munching on some old bones Come on He's always alive Bravo Maianino Not another one I'm not good piggy Shoo pig He's not We're going on the contrary What? I'm not going near that trap until I know what it does I can't use I can't use I can't use I'll 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 Non c'è più difficile. Non, non c'è più difficile. Stetting off the traps again. Oh. At least it keeps us in bacon. This trap must have gone off by itself. I thought I told you to set it tighter. I did. You don't need to yell. Since we let Antonio go, Captain Butcher's not taking any chances with those dogs finding our refuge. Oh. But it might be nice to let one through. Occasionally. You know the rules, Molly. All males are killed on sight. Especially pirates. Yes, I know. But it just seems a bit unfair. They can't all be bad. What about Antonio? You know he was a special case. He got to the captain first and showed he wasn't a threat. We, on the other paw, have our orders. I know. But let's head back. We can reset this trap later. That explains the lack of beer. Yeah, I mean ladies on groggy island. Maybe if I got hold of one of those masks, I could get close enough to convince them I'm one of the good guys. Quite a few crackers on this island. What's this caught in the trap? The bandiera. These pirates certainly are careless with their flags. Nasty. I've got to make a mask before I can make peace with the natives. I'll just get intended to meet myagi. We are trying to test that out. Now let's go. OK. 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 These pirates are always crucial. OK. OK. That's how the slaves…. OK. ok this must be their camp i'd best be on the lookout for any more guards it's a very large iron cauldron if i still thought cannibals lived here i'd be worried by now oh and of course there are crackers here okay i'll not to where let's try that trick again e-i-i-i-i-u-u-ru nothing why are you holding out on me tree let's try that trick Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì. Sì, 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 sì. 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 Aspetta, il calderone è ferro. Allora, fammi vedere intanto... Mmm... Mmm... Tondo... LOL... No, non è LOL... Allora... Poi... Proviamo... Quello dell'Illuminati... L'occhio dell'Illuminati... Il rombo... Scritto con LOL... Il tondo... Ok, proviamo... Proviamo... ... 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 La marmellata ho fatta, la marmellata di... La ricetta... E' della ricetta Questa Un mangofef, crume e acqua Ah, ho fatta la marmellata Ah Forse uscendo e rientrando Potrei aver catturato qualche... ...uccellino ...uccellino Si Ah 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 Oh fuck Ok C'est Julie là, ouais Julie là, ouais Non ho visto a te prima. Capitano Butcher mi ha sentito a fare una masca. Si, quella buona masca. Ok, la tua storia è guardata. Mi abbono la porta. Era solo un uomo. Uomo si diventano uomini e uomini diventano pirati. Un uomo della terra. E una cura di piccola. Non ci siamo solo pirati? È l'ultima volta che sei capito uno dei miei navi. Ok, non voglio parte di questa buona cosa. Voi, allora. Voi vedere come ti fare senza noi guardando la tua torta. Chi sei tu e che sei tu? La Giulia ha una buona masca. Questa è la tua malattia. Questa è la mia carica. Questa è la tua torta. Questa è la sua torta. Voi? Qui ci ha il gioco. Questa è la tua. Mi escapi da un soldato all'interno. Un soldato, eh? Well crew It looks like we have some guests To entertain Move out bitches Clara Get our guest acquainted with the camp I'm no tour guide Fine Leave All of you I'm sorry but I'm not hanging around You're welcome to stay Wait Please take me with you No honestly You're better off here No you don't understand Sì, è meglio. Dà un'unico ragazzo per cui non dovrei andare a te spettare, tu scurvy dog. Tu non hai bisogno di parte di questo business. Plus, potrei essere potuto aiutare. Sì, credo che bisogna di qualcuno per aiutare il pianeta. Qual è il tuo nome, dog? Gah, James Rover. Sì, potrei rinunciare a me come Clara. E, per favore, mi ha fatto un favore. Sì, ridi di questa ridicolosa masca. Sì. Sì, signor De Silva, signor. Interrupti un signor a drinkare rum è un evento che si tratta di queste parti. Sì, sono qui per il risultato, signor. Tornare la mia patienza, pub. È un po' di Capitano Silveri, signor. Sì, è un po' di Capitano Silveri. Uh, except me, sir. What did he look like? I couldn't rightly tell. They were all wavering masks. They were flying the butcher's flag, but the crew addressed him as Captain Silveri. Who else have you told about this? None, sir. First thing I did was come find you. There's a good pub. Make sure you keep it that way. I have to make arrangements. Your reward. Meet me down by the docks tonight. Thank you, sir. Sì. Could it be? Rufus! Yes, sir! Ready the ship. Keep up, will you? My legs aren't as long as yours. Eyes up, you skinny sea snail. Right. At the bottom of these caves is my father's ship. How did it get there? All I know is I stowed away on board, but there was a terrible storm and I blacked out. When I woke, the ship was anchored in the cove, and I was alone. Quickly, we must escape while everyone is distracted. Wait, what's this about ghosts? Butcher thinks the ghost of my father sailed the ship, but I don't believe that. There are no ghosts. I think? You bad. Clara, where did she go? E, cari Youtubers, io vi saluto qua e vi aspetto alla prossima parte con Jolly Rod. Quindi, un bel HA-A-A-A-A-A-A-Tutti! Alla prossima!